Sta piovendo! Pioveee! Sta piovendo! Uh! Era giusto il meteo! E ragazzi, come va? Io sono Feri Niki! E io sono Steph! E che stai giochendo a Stranded Deep? Ed eccoci qua con il secondo episodio Dotto che il primo ovviamente è stato approvato dai consolini Consolini Approved Esattamente! Siamo nell'isola dei Pini Perché l'avete votato in tantissimi Ho guardato il sondaggio oggi Tipo 85% isola dei Pini 15% l'altra isola Siamo quasi tutti d'accordo che questo è il posto migliore Dove fare la nostra base Quindi oggi ci focalizzeremo su quello La cosa principale su tutto ragazzi Ovviamente è il distillatore dell'acqua Perché stiamo sempre morendo di sete È un problema gravissimo per la nostra sopravvivenza Vedete anche adesso Abbiamo anche un grosso problema con la vita Sto notando Sto notando in questo momento che abbiamo solo un'attacchetta Cadiamo da un albero E siamo spacciati Oh ma hai capito come si aumenta la vita? No Io no 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 È un problema serio questo Secondo me è qualcosa nel craft Perché io pensavo tipo a delle bende per curare le ferite E infatti ci sono Però ci serve il clot Ok E il clot come si fa? E il clot io non l'ho visto da craftare Giusto? Ah invece eccolo qua Ci serve il Oggi è la giornata del Io questa cosa non l'ho vista Poi controlli E poi compare Ok Allora facciamo tutti i passaggi Ci serve fare una benda Per fare la benda ci serve un lashing Che è facile con quattro pezzi di foglia E poi un clot Per fare il clot però Ci serve un loom Oltre a quattro foglie Questo loom Credo sia nelle strutture Ok Che cos'è un loom? E ci chiede Quattro lashing E sì Vabbè dai No aspetta mi sto intripando È tutto capito Rimani Te lo dico io Hashtag rimaniamo con un cuoricino Tipo lo yuka ne dava molte Penso di sì Vedi sì è pieno di foglie Tecnicamente Ecco Sì Ecco qual era la soluzione Uno due Tre Quattro Solo questa Va già meglio Molto molto meglio Quindi iniziamo a craftarne uno Iniziamo a craftarne due E il terzo non ci esce Ho trovato delle patate Oh che buone le patate Ma le possiamo secondo te seminare? Sì sicuro Secondo me come raft Possiamo fare capito il vaso Il pot Speriamo E quindi mettere le patate Sarebbe una figata iniziare a farci una piantaggione di patate Sì infatti per ora non la mangiamo E speriamo di trovare qualcosa per sfruttarle meglio Sì sì Oh ciao cinghiale Ciao cinghiale Oh due Si sono moltiplicati Oh capellini che siete Ma se si moltiplicano così in fretta noi continuiamo a non ucciderli E diventerà dall'isola dei pini all'isola dei cinghiali L'isola dei cinghiali Che carini Perché probabilmente ha detto Ho capito Visto che siamo amichevoli ha chiamato l'amica Ha detto vieni qua Vieni qua Esatto Che tanto qui non ci fanno nulla Stiamo da dio Capito E noi siamo felicissimi di questa cosa Allora Quattro è il momento Attenzione Ok finalmente Finalmente Per fare il fire pit Ci vuole il fuoco Ti serve il fire pit Però ti serve il fuoco normale Quindi tu devi creare Allora Allora mi sto affaticando questo crafting Lo so Mi sta facendo venire È tutto a passaggi Ta Quindi faccio ta Uh quindi non migliori E cosa deve arrivare? Non ti sto capendo aiutami Sto giocando da solo oggi ragazzi Sì Non mi stai confondendo con i craft Non capisco nulla Allora Stiamo creando il water distiller Ovvero È mattina presto Prendi il secchio Mettila Non è mattina presto Sono le 11 È sabato E io ho ancora sonno Sono le 11.03 Quindi non mi puoi confondere E vabbè per me è presto Allora Allora Aiutami ti prego Metto anche pausa Che se no ci scende la sette Stiamo creando il water distiller Dove tu prendi un secchio d'acqua dal mare Lo metti lì Ok Questo lo possiamo fare Uh Ok Che figo Sai cosa mi piace di più di questo crafting? Sì Che solitamente nei giochi Tu ad esempio fai il pocarello base Tipo anche su The Forest Poi per fare quello migliorato Devi distruggere quello base Esatto Invece qua migliori quello che hai già detto È una figata È bellissimo questo crafting Non l'avevo mai vista Sono d'accordo È molto 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 bello È bellissimo Non ci crederete Ma ce l'abbiamo fatta Abbiamo girato tutta l'isola Cercando le fogliorine Proprio guardando benissimo Secondo me le abbiamo finite Siamo proprio al limite Di quelle che ci sono Sì anche secondo me Anche secondo me Però eccoci Water Ci mancavano di legno Cioè davvero Una Cioè ci rovini il momento enfasi No tu rovini il momento enfasi Che ti sei dimenticato un ramoscello A me aveva scritto che ce ne avevamo Guarda Eccolo Eccolo qua Grazie Puoi prendere dell'acqua Ti prego Ti prego Oh le rimpi Aspetta Hai messo un secchiello sotto Per raccogliere l'acqua Ma quindi è basato sulla pioggia Scusami Di nuovo Rimani il problema Che noi abbiamo Una tacchetta di sete In questo momento Non abbiamo neanche qualche cocco da bere Ne ho lasciato due qua Però Non sai Eviteli per ora Che devi fa No certo Per rischiare che Che moriamo di sete Però È difficile Speravo che avessimo Siamo avendo un sacco di problemi Siamo avendo un sacco di problemi qua Sta pure diventando buio Giusto per avere altre buone notizie Il sonno non ci scende Cioè questo personaggio non si stanca mai Non ha mai sonno Quindi noi andiamo adesso a dormire E ci svegliamo dopo due secondi Perché quello è il problema Sì adatto Perché non ha sonno Non ha sonno Dovremmo rimanere svegli nella notte Sì non si vede nulla A fare Allora Però è un bel tramonto Però stiamo da un sacco di tempo qua E non abbiamo mai visto la pioggia Esatto Quindi come ci senti facciamo a procurarci l'acqua Perché ci stiamo già da un po' ormai Cioè Non c'è pioggia Esatto Quando pioverà Boh Quando saremo già morti Cinghiare quando piove Tu che sei Capito Rispetto a meteo Ma poi c'è un altro problema Cioè è buio da una vite Sono solo le sete e mezzo Quindi stiamo facendo buio anche alle sei Durano pochissimo le giornate Non abbiamo mai sonno Stiamo morendo di sete Peggio di così non può mai andare Che bello Che bello Io l'avevo detto che è difficile sopravvivere in questo postaccio Sì L'avevo detto Allora ci buttiamo giù Questo di cocco Purtroppo ne abbiamo solo uno Lo vedi? Eccolo Sì eccolo Allora Ta 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 Ce lo beviamo perché non voglio che il personaggio magari si sveglia perché ha sete Eh esatto esatto Abbiamo quattro tacchetti di sete Ce ne andiamo un po' a dormire E speriamo di svegliarci almeno alle sei del mattino Quando almeno Si sveglia sempre alle quattro Un po' di sole compare No si è svegliato di nuovo Ma proprio in piena notte Che ore sono? Cinque Però il meteo segna pioggia Eh dai Magari oggi piove Magari c'è bisogno che faccio la danza della pioggia Dai Anche la canzone Piovi piovi sempre di più Io che non ti dico queste cose Speri che non le faccia No spero sempre che tu abbia un minimo di decenza No no Di non farle invece esageri addirittura Capito? Proprio esageri Ti scateni Tu mi fai sempre improvvisare Come se fosse una roba semplice Io spero almeno che ci sarà pioggia Che sia servita qualcosa questa tua danza Non la so Magari per farti smettere il gioco fa piovere Capito? Tu ci credi poco Eh sì Ogni volta E quindi rovini tutto Ma ci sono delle del cocco qua sopra Perché ci toccare un piccaccio a qualche parte Stiamo morendo i sette Quindi dobbiamo controllare gli alberi più alti Eh il problema è che se cadi da un albero e ti si bagga Siamo morti Sei morto Lo so Perché non riusciamo minimamente a farci le bende Non abbiamo tutte queste Lo so benissimo Sta piovendo Piove Sta piovendo Uh Era giusto il meteo Era giusto Era giusto Era giusto Ma te l'ho detto che erano quei nuvoloni grigi che si stavano avvicinando Allora aspetta 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 Ne avevo visti l'antenanza Dobbiamo sfruttarlo al massimo Sì Credo che dobbiamo accendere il fuoco Sì Anche secondo me Vai 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 Dai con questo bastoncino Oh che ansia Che bello Accenditi Perché dice che è vuoto però Non lo so Ma sei inutile Scusa provo a mettere l'altro No non rischiamo proprio adesso che sta piovendo per favore Sì ma non dice minimamente che è pieno Non è che dovevamo fare anche quello per l'acqua Cioè? Il solar steel Proviamo C'è i materiali C'è i materiali Prima che metta di piove Il telone Il telone Il telone dove l'ho messo? Eh non lo so L'avevo buttato da qualche parte E questo è perché butti la cosa? Il telone Eccolo 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 Ci servirà anche secondo me un altro secchiello Quindi per sicurezza lo prendo Che poi diceva Scusami Fresh water Ho appena bevuto Se lo lasci anche per terra si riempie Quanto ti ricarica? Praticamente pieno Praticamente tutto Allora non sto capendo E allora il water distiller serve per forza per l'acqua Per l'acqua di mare Scusami Sì Se no non ha senso Esatto Se tu piove lasci un secchiello perché mi dovrei costruire quella cosa gigante Esatto Infatti vedi che è sempre pieno? Esatto Ok Sì allora un attimino Appoggio di nuovo questo Craftiamo anche appunto il solar steel Che mettiamo a fianco Sì dai 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 Così Poi dobbiamo mettere un secchiello Sì Se è abbastanza realistico Con la pioggia iniziano a ricrescere un po' di piantine? Secondo me sì Secondo me nel tempo Se noi non distruggiamo ad esempio le palme Ricrescono sia le foglie sia il cocco E beh perché ha senso Ci sono cose che ricrescono Allo stesso modo infatti anche tornando nella nostra isola Secondo me succede questo Però Secondo me dobbiamo andare Perché rischiare e andare di nuovo lì Che ci saranno comunque pochi materiali perché piccole Meglio andare in un'altra Proprio andare così? Sì Sfacciatissimo Beh scusami siamo pieni di sette Pieni di cibo Questo è il momento Verso che porte andiamo? Allora se lì abbiamo un'isola Andiamo verso qua Ok Ok Sempre dritti Spero di Allora Siccome dobbiamo imparare dai nostri errori Ok Adesso ti avvicini le cuffie E mi avvisi quando c'è la musica terribile Di quando sta arrivando allo squalo Sì perché l'abbiamo scoperto appunto editando Che c'è una musica quando arriva allo squalo Sì perché mi ha fatto venire un infarto E non ho voglia di averne un altro Ok Ok C'è la nebbia Quindi teoricamente ci stiamo avvicinando alla nuova isola Perché la scorsa volta era andata così Sì Vediamo se risuccede appunto Per ora infatti nel confine non vediamo nulla La nebbia passa e compare un'isola Uh Sembra bella Tutte vicine comunque No sembrava che non ci sia nulla Sì praticamente siamo Perché ho visto delle mappe Siamo in un arcipelago Ok Pieno di isolotti Quindi c'è l'oceano in mezzo Però è pieno di isolotti piccolini Uno vicino all'altro Sì sì Quindi è una figata perché noi dobbiamo esplorare un sacco E teoricamente un sacco di cose diverse si troveranno Quindi ci sono delle isole più importanti di altre Tipo quella dei pini era già molto importante Anche perché abbiamo trovato le patate I cinghiali I pini L'abbiamo trovata proprio subito Quindi è stata una fortuna incredibile Sì ok vediamo benissimo la nostra isola Non siamo troppo lontani Con la sete e il cibo siamo messi bene Abbiamo fatto bene a viaggiare oggi Allora Forza e coraggio Coltello 54% di durabilità ancora Quindi ce la possiamo fare Sì sì piantine 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 più che puoi Esatto piantine tutte quelle che riusciamo a portarci a casa Lo yuka ce ne dà 4 quindi è già una roba bellissima Esatto Uno due tre Additura 5 Che fortuna incredibile Ci prendiamo anche lo secchiello perché abbiamo capito quanto sono utili Abbiamo ancora tre spazi di inventario che non è male per niente Queste le possiamo prendere Ok Abbiamo fatto un bottino incredibile Bottino di foglie e di cocchi 8 cocco 24 di foglie Alla grande Bellissimo Alla grande Ovvero gli storage dove depositare le cose che abbiamo E indovinate si trovano esplorando Infatti le dobbiamo proprio trovare nelle isole Le prendiamo Mamma mia Non ce la posso fare Non ce la posso fare io quando facciamo i viaggi Te lo dico Non ce la faccio Cioè proprio All'andata noi eravamo lì pronti a vederlo Ma poi l'hai visto che è passato sotto proprio E non ci avrebbe mai e poi mai fatto paura Al ritorno ha visto la leggerezza in noi Ed è comparso Proprio capisce le nostre emozioni Mi danno fastidio Per farci paura Pasquale è migliorato Sì io te l'ho detto che avrebbe dato spettacolo E ancora non siamo mai andati in sott'acqua Ma io non ci andrò mai Arrangiati Arrangiati Comunque Comunque sì dicevamo le ces praticamente per imparare a craftarle Le devi trovare Quindi esplorare Trovarle E poi riuscire a rifarle Altra cosa fighissima Adesso ci proviamo a creare Tutto quello che serve per fare le bende Ci curiamo Ci facciamo un posto dove tenere il cocco Proprio Visto che non abbiamo Ma i tavoli che abbiamo Secondo te non si possono mettere le cose sul tavolo Se me cadono Se me cadono Sì ma tu nella realtà Pensi a un tavolo Ci appoggi delle cose Capito Pasquale sembra che ci abbia già lasciato in pace Non lo so Magari ha visto un pesce gigante E è andato a prenderselo Secondo me capito Non lo so Non lo so Rischiamo solo di sprecare il tavolo comunque Di sicuro sta diventando buio Quindi Comunque è ora di pisolare un pochettino Pisolare non esiste Certo che esiste Voce del verbo pisolare Io pisolo Tu pisoli E li pisola Noi pisoliamo Voi pisolate E si pisolano No Capisci? Non esiste Certo Io pisolai Tu pisolaste E li pisolò Basta Cioè È solo nella tua mente che esiste Ok Ho parcheggiato dalla porta sbagliata Esatto Esatto Ho tutto Ho tutto Posso farlo Non so Allora staccalo un po' Fallo un po' da una parte Tipo Allora secondo me è tipo qua Sì esatto Vero questa è la posizione perfetta No vicino alla roccia Guarda così non ce l'abbiamo in mezzo quando camminiamo Questa zona qui Sì Sì Dobbiamo fare il clotto Il clotto Con questo Allora Infatti guarda C'è Quattro foglie più uno Tacate Ci siamo fatti un clotto Ok Ora faccio un lashing Ta 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 Ok Vado qui sotto Posso fare una benda Fidissimo Prendiamo la benda Equipaggiamo la benda Utilizziamo la benda E la benda non funziona Ehi Dai funziona però Perché abbiamo sempre stesso bug Dice che serve per il sanguinamento Sì E noi non stiamo sanguinando Eh l'ho capito che non stiamo sanguinando Ma comunque abbiamo la vita bassa Come accidenti la recuperiamo Se non con le bende Non ho idea Comunque dai Ci fermiamo così per questo video Direi Siete seri? Dove siete? Eccoli Mi stanno sempre bloccando le outro nei giochi Sì l'ho notato Lo fanno apposta Cioè Nel tempo Ma tutti i giochi E' una roba incredibile Cioè E' pipistrelli E' gabbiani E' cinghiali che urlano E' gente che mi spinge E' gente che mi ammazza Non posso mai fare un outro in pace Lo so E' una roba che mi fa raviare Comunque diciamo Ci fermiamo così per questo video Direi che è andata bene Abbiamo esplorato una terza isola Abbiamo fatto un sacco di roba nella nostra base Che inizia ad avere almeno un po' di senso Inizia ad essere almeno un pochettino carina Abbiamo una buona scorta di cocco Abbiamo ancora un po' di foglie I pipistrelli Sono belli vivaci Per tutta la notte E beh Loro si svegliano di notte E mo' sono felici Lasciali stare Sono relativamente soddisfatto Cioè Non siamo proprio messi In una sopravvivenza tranquilla Esatto Però ci siamo tranquillizzati un po' Cioè te lo fanno sudare qua La sopravvivenza è davvero Faticosa Abbiamo fatto degli step successivi Che ci fanno vivere un po' meglio Sì Adesso questa roba di quericini Andrà sistemata un po' Ma credo che nel prossimo episodio Iniziamo ad esplorare un po' di più Su serio Per trovare qualche isola Davvero utile Voglio trovare i primi relitti Le prime cose un po' particolari I primi misteri Sono d'accordo Sono d'accordo Spero che se dice così Se diceci un like E questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao